Bentornati su MyFootballJersey. Vediamo insieme questa bellissima maglia del Tottenham. Questa è la seconda maglia per la stagione appena iniziata in edizione FAN. Questa è la seconda maglia. La maglia non è niente male, tra l'altro di un'ottima qualità e con dei buoni tempi di spedizione. Il costo, lo vedete qui sopra, beh, questo è strabiliante. Vi ricordo che trovate tutti i riferimenti qua sotto in descrizione. Andate a vedere perché per i nuovi iscritti c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari, quindi il costo diventa ancora più basso. Ora vi lascio la parte finale in cui vedrete le misure. Prima però vi ricordo iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, ma ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.